Siamo a San Sebastiano Alvesuglio con Agostino Ragusta che sta per presentare il suo libro L'ingenua allegria, l'hobster edizione. Parlavo poco fa con Agostino di questo libro che secondo me va letto due volte. Una prima volta proprio per il piacere della lettura e anche il piacere del sorriso perché è un libro dove c'è molta eronia e una seconda volta per cogliere degli aspetti che a una prima lettura possono passare in secondo piano perché c'è una profondità. Ma andiamo con per gradi. Il titolo, l'ingenua allegria, già il titolo è particolare. Qual è questa ingenua allegria? L'ingenua allegria è la leggerezza di andare incontro alla vita in una maniera, per quanto possa essere possibile, soft, non prendendosi sempre molto 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 sul serio. Questo è l'aspetto, per questo l'ingenua allegria. Non stupidità, però, attenzione, è diversa. Diciamo così, come dire, è un qualcosa di particolarmente ironico, perché ne parlavamo prima, ma allo stesso tempo intelligente. Quindi un modo di guardare il mondo ad occhi aperti, anche in maniera un po' disincantata. In questi nove racconti ci sono le signore Agé, che si ritrovano in un giardino a te molto caro, un giardinetto a Napoli, e si raccontano, discutono, e in certo qual modo si confrontano su quella che è stata quest'arte e che è la loro vita. Come ti è venuta l'idea di partire in questo modo? Perché è vero che sono nove racconti, ma in effetti si potrebbe dire che c'è un romanzo, perché i nove racconti sono collegati, i personaggi sono l'uno nella vita dell'altro. In effetti io ho il passo breve, diciamo come diceva Calvino, sostanzialmente il racconto, riesco a esprimermi bene con il racconto. Con il romanzo è un po' difficile. L'esperienza nasce veramente con un'esperienza di vita, perché quei giardinetti mi hanno visto adolescente, e nello stesso tempo andavo a studiare in quel periodo a casa di un mio amico, che avevo questo nonno, avere il nonno in casa è una cosa bella, e verso le 11 questo signore si preparava e io gli chiedevo, voi chi ha le 11 precisi, il tuo nonno scende sempre così, no quello ma i giardinetti, vittica con gli altri coetani e poi se ne torna qua, passa un po' insieme. Ecco da lì è nata poi l'idea di strutturare il libro in quel luogo, che per me è un posto diciamo, si ricorda dell'adolescenza, si del cuore. C'è un personaggio che è importantissimo, a cui tutti si rivolgono, che è lo psicoterapeuta, anzi no, lo psichiatra Ripamonti, che è un personaggio tra l'altro che ho letto da qualche parte, esiste veramente, ed è un personaggio sui generis, perché ascolta i pazienti, però poi alla fine consiglia delle letture, quindi quanto la letteratura è salvifica nella vita di ciascuno di noi? Allora, Ripamonti è un psicoterapeuta. Sono confusa, hai ragione. È un psicoterapeuta e diciamo, ecco la lettura è determinante, importante, esiste veramente, l'ho conosciuto nel mio periodo in cui ho lavorato alla Feltinelli a Santo Maso d'Aquino, sono stato a casa sua, è nato un rapporto di amicizia e quindi per me è stato un fonte di ispirazione, adesso siamo amici, lui è anziano, ma tutt'ora ci vediamo, tutt'ora ci frequentiamo. La lettura è importante, la lettura è terapia, cioè veramente fa bene leggere, al di là di tutto, più che terapia direi è conoscenza, ecco leggiamo abbiamo la possibilità comunque di conoscere, abbiamo la possibilità di viaggiare, abbiamo la possibilità di apprendere, quindi è determinante. Come è terapeutica anche la scrittura, per esempio io scrivo per terapia, come dicevo, prima non sono uno scrittore, ma uno scrivente, uno scrittore amatoriale, devo scrivere, cerco di aggiustare un po' le cose del mio passato in modo più efficace per farle attraverso la scrittura, poi volevo aggiungere i luoghi, noi stasera siamo qui a San Sebastiano, è un luogo bellissimo, questo è un luogo dove si fa comunità, anche quei giardinetti, allora qui sono, dove è ambientato il libro, poi sono quei luoghi intermedi che non esistono più, per esempio si sta a casa, poi si va al lavoro, si ritorna a casa, si va all'università, si torna a casa, si va all'università, però prima c'erano dei luoghi come questi qua, erano dei luoghi, diciamo, intermedi, dove l'associazione, il Cral e tante altre cose, dove le persone si rivedevano, ecco questo secondo me bisogna svilupparlo di nuovo, cercare di metterci tutti insieme e creare questi luoghi dove si fa comunità, perché siamo troppo condizionati, non voglio dire la sola cosa, dai social che siamo lì, pensavo di avere tanti amici, ma in realtà la miglior cosa è quella di incontrarsi, è quella di parlare tra di noi, ecco. In tutti i racconti, nei nuovi racconti, c'è qualcuno che ha una difficoltà, ed è una difficoltà che solitamente è legata a una frustrazione, che quasi sempre nasce nel passato, si avverte in te questa urgenza di affrontare la tematica del tempo, dello scorrere del tempo e del non perdere quello che è il quotidiano, infatti c'è una frase molto bella che fa dire a ripamonti, il futuro deve coincidere con il presente, è una cosa molto difficile, questa tua attenzione a questo aspetto è legata, io già so la risposta, però chi ci seguirà non lo sa, è legata a una tua esperienza personale o è proprio un'attenzione che nasce dal fatto che è un tema che a ti è caro a prescindere? Claudio, io ti ringrazio per questa domanda perché innanzitutto che hai letto il libro in maniera profondita è perché hai toccato veramente un punto determinante, è sempre presente il passato, ma anche lo scorrere del tempo nei miei racconti, io cerco però di rapportarmi il passato non come nostalgia ma come conoscenza, quindi il passato deve essere rivisto, rivalutato, dargli la giusta importanza, però la cosa bella è guardare comunque al futuro, però io attingo sempre dal passato, tutti i miei racconti, anche il primo libro che ho scritto si chiamava Non è mai tempo perso, quindi ecco il rapporto del tempo, c'è sempre, i racconti sono i miei massimi reali, nel senso che i personaggi sono amici, sono persone che ho conosciuto e io mi diverto a prenderli o in giro o a fare i complimenti diciamoci a queste persone, infatti più spesso ci sono abbastanza sferzante nel senso buono, infatti c'è una delle due retiche iniziali che riprende Pietro la retina e dice di tutti disse Malfur che di Cristo scusandosi col dir non lo conosco, cioè non lo conosco, in effetti sono quei personaggi che tu vedi sono personaggi che ho incontrato lungo il mio cammino, la mia esistenza e li ho riportati, alcuni sono persone che conosco tuttora, altri invece li ho rimodulati un po' con con la fantasia. Leggendo il tuo libro si ha la sensazione, o meglio la chiara percezione che le nostre vite sono ricche di sfumature, sono ricche di storie e a volte quando noi viviamo non siamo neanche consapevoli di quello che stiamo vivendo e il fatto che tu all'inizio dicevi la possibilità di avere dei luoghi intermedi dove poter confrontarsi di cui adesso si sente la mancanza è una grande verità. Ci sono poi gli ultimi due racconti che ho trovato straordinari perché tu piano piano con ironia ma soprattutto con delicatezza fai un po' una critica a quella che è la situazione attuale, cioè rispetto alla produzione, all'editoria, però lo fai molto bene perché anche lì il sorriso sulle labbra c'è, però poi dopo rifletti e ti rendi conto che hai osservato bene, siamo tanti a scrivere, troppi. Guarda in effetti gli ultimi due racconti si distaccano un po' dagli altri sette, anche se io ho trovato anche un trait d'union ci sta, però vedi quelli sono due personaggi particolari, una è l'operatrice culturale che ci mette del suo e viene in effetti viene come dire perdonata o quantomeno viene aiutata dal ripamonte. L'altro è un altro personaggio che lui rimane, sei uno dei personaggi negativi però insieme a Lucio Cannone che è presente in uno dei racconti precedenti, però sostanzialmente è impertinente questo personaggio e quindi è anche simpatico per certi aspetti. Si scrive, ma si scrive troppo, bene, secondo me dobbiamo scrivere in molti, però dobbiamo tenere i piedi per terra, come dicevamo prima, perché Claudia scrive fa bene, soltanto non dobbiamo illuderci, dobbiamo sapere la nostra dimensione qual è. Io per esempio sono un autore, mi definisco neomelodico, nel senso che giro tra amici, parenti, condominio, qualche comune intorno a me, in città, ed è bello. La cosa brutta è quando uno comincia a vivere il delirio di onnipotenza, nel senso pensa di essere un autore, un scrittore, invece no. Io lavorando in libreria, guardandomi tra gli scaffali, Gates, Proust e tanti altri, allora uno dice è meglio che faccio un passo. Ci si sente un po' più piccoli. Uno non deve essere comunque timido, deve scrivere, deve dare la possibilità anche, diciamo, a se stesso di esprimersi. Però poi, ecco, è importante perché scrivere lo fa una sola persona, però puoi distribuire, pubblicare, è tutto un altro mondo. Lì ci vogliono le persone giuste, che ti fanno la valutazione giusta, ti dicono le cose come realmente stanno, vedono se c'è qualcosa che si può sviluppare, quindi questo aspetto è... Io ti ho fatto questa domanda appositamente, perché mi è capitato di sentire, no, tante persone, a volte l'ho pensato anch'io, ma siamo in tante a scrivere. Invece nei ultimi due racconti c'è un po' anche la risposta. È vero, è giusto scrivere, facendo una selezione giusta e nello stesso tempo mantenendo i piedi per terra. Voglio farti un'altra domanda. Tu nasci come libraio, la tua esperienza come libraio mi incuriosisce tantissimo. Che idea ti sei fatto del lettore? Il lettore è cambiato nel tempo? O sono cambiati gli scrittori, o meglio, la scrittura è cambiata. Scusami, vai. Allora, secondo me, ecco, io parto dai giovani, dicono che i giovani non leggono, non è vero, i giovani li leggo, non li dico da l'Italia. Io ho avuto la fortuna di lavorare nelle due librerie importanti a Napoli, Guida e poi da più di 35-36 anni, da Pertrinennio, quindi sono da oltre 40 anni nel mondo dei libri, nel mondo della libreria. E devo dire che ho attraversato vari tipi di letture. I giovani leggono, forse leggono male, perché ora sono un po' condizionati da queste formule TikTok, queste cose così, però è il primo gradino, il primo gradino verso la lettura. Non scoraggiamoli. Io in libria vedo tanti giovani e alcuni vengono e mi chiedono, che so, Gate, mi chiedono Genève, però io dico te l'ha consigliata la professoressa, eh sì. Poi vengono e mi chiedono magari libri, diciamo sì, d'amore, libri, diciamo sì, che hanno visto. Io, diciamo, si sono contento lo stesso. A volte non ricapisco neanche i titoli, perché sono anche in inglese, se mi stai chiedendo. Però, come dire, è importante, perché loro fanno un primo passo. Poi i percorsi di lettura si fanno con calma, anche grazie a queste iniziative qua. Cioè, ecco, il lettore va educato. E poi, certo, ci stavano i biblofili di una volta e non ci stanno più. Adesso è una lettura un po' più veloce, perché siamo condizionati. Qua si corre sempre. E anche la lettura e il condizionamento, perché gli editori, pure loro, sono condizionati dal mercato. Purtroppo abbiamo perso da poco Franco Di Mare. La prima settimana, 7-8 giorni, tutti Franco Di Mare, chiederebbe Franco Di Mare. Poi dobbiamo fare in modo che dobbiamo leggere ancora Franco Di Mare. Non è che viene un altro fenomeno, oppure qualche altra disgrazia, che ci abbandona qualcuno e poi non, ecco, ripercorriamo oppure rivalutiamo degli autori. Quanto la tua, cioè, quanto ti sei divertito a scrivere questo libro? Perché io l'ho percepito. Claudia. Infatti, mentre leggevo, e quando soltutto l'ho riletto, ho detto, ma secondo me, Agostino Ragosta si è divertito da morire. Claudia, mi sembra divertito più a leggerlo alla fine, mi devi credere. Lo sai perché? Perché scrivere è un sacrificio. Anche tu mi sembra, mi hai detto che hai un'esperienza, diciamo, come a volte mi dicevo, e scrivere veramente ci vuole energia, perché sai, tu la mattina scrivi, devi decidere pure qual è il momento migliore. Poi, io per esempio riscrivo la mattina, la sera correggo, poi, diciamo così, cancello, riscrivo. È veramente una lotta con se stessi, diciamo così. E poi, sai, io mi affido, poi c'è un editor che ti segue, in questo caso, diciamo così, ho debuttato con un giovane, perché ho cambiato casa editrice. All'inizio ero un po' preoccupato, perché dopo i primi due, con il mio caro amico, sono passato a questo editor giovane che mi ha seguito e mi diceva di tagliare, di tagliare. Sai, quando si deve tagliare... Non è facile. Eh, non è facile. Io sai, dice, è mai possibile questo che sta facendo tagliare tutto. Però in effetti ha ragione. Ecco, ecco, scrivere lo fa una sola persona, l'atto creativo lo fa una sola persona. Però poi l'arrangiamento, come nella musica, a volte una canzone nasce su due note, poi c'è l'arrangiatore, sai, che ti mette i violini, ecco, è importante che scrivere è un'operazione collettiva, perché l'editore è importante, quasi quanto lo scrittore, perché lui che ti dà i tempi, ti dà, te lo revisiona, diciamo così, e te lo rende efficace. Parlare con te è un piacere, infatti ti voglio fare ancora un'altra domanda. Tu sei un promotore di lettura. Sì. La passione per la lettura di Agostino mi interessa. E poi è facile promuovere la lettura? O invece è complicato? Forse è più complicato che scrivere un libro. Claudio, è molto difficile, molto, ma molto difficile, ma non ci dobbiamo arrendere. Anche questo luogo è un luogo di promozione alla lettura. Perché si fa promuovere la lettura? Innanzitutto per conoscenza, per far sì che tutti quanti possono leggere e appassionarsi alla lettura, perché leggere veramente è conoscenza. Tu hai possibilità di essere aggiornata attraverso la lettura. E poi, anche se devi organizzare degli eventi, se non c'è un percorso, io so, San Sebastiano, Golla, la nostra zona, Pollena, Ottaviano, se tu, diciamoci, inviti un autore, ti deve garantire anche un piccolo tour, perché ritornando ai due capitoli che ho scritto. Allora, molto spesso gli editori, ecco la mia critica, in post-produzione non lo curano, perché quella è la cosa più difficile, portare l'autore in giro, farlo conoscere. Allo stesso tempo l'autore deve essere anche, ecco, deve capire, deve essere cosciente che può trovare tre persone, può trovare cinque persone, può trovare venti persone, perché poi non è la quantità, ma è la qualità di una presentazione. Quindi è quell'equilibrio che si deve cercare. Io faccio promozione alla lettura per questo, per garantire agli editori, ma per garantire ai giovani, per garantire agli anziani, a tutti quelli che amano leggere, la conoscenza, ma anche la possibilità di fare industria culturale, diciamo la verità, è quella importante, perché altrimenti le librerie chiudono e gli editori non vanno avanti, è importante. Più si legge, più si alimenta la filiera. Lei c'è nato tu precedentemente, gli altri due libri tematiche diverse, però c'è un fondo che li unisce, c'è questa tua attenzione all'osservazione e alla riflessione. È come se la vita che hai vissuto e la vita degli altri, rappresenti per te una fonte per poi fare delle considerazioni su quella che è la nostra quotidianità, il nostro modo anche di affrontare il quotidiano. C'è questa costante? L'ho letta male o realmente hai questa esigenza che poi si declina in vari modi, a seconda della storia che decidi di raccontare? Sì, c'è questa esigenza, c'è questa esigenza e c'è anche... Come se avessi, scusa se ti interrompo, avvertito, l'isortazione, la necessità di esortare l'altro ad andare avanti e a non ripiegarsi su quelle che possono essere le difficoltà della propria esistenza, quindi guardare al passato, come dicevi tu precedentemente, però nello stesso tempo proiettarsi comunque nel futuro e soprattutto nel presente. Assolutamente, bisogna essere, bisogna avere buoni radici e buone ali, ma soprattutto vivere il presente. Questo però è, sai Claudia, è un atteggiamento che si assume con l'esperienza, perché anche il tempo, la questione del tempo, quando eravamo ragazzi dicevamo sempre vado a perdere un po' di tempo, ce lo si perdeva, adesso il tempo è prezioso e ce ne rendiamo conto sempre in ritardo, anche nel nostro atteggiamento. Adesso noi diventiamo come quei vecchietti che si litigano, però hanno raggiunto il loro equilibrio. Però quando si è giovani si è, come dire, si è più incendiari, no? Invece con una certa età si diventa, con la maturità si diventa più in piedi. Io all'interno dei libri mi rifaccio sempre al passato, cercando però di trasmettere qualcosa per il futuro, questo è così importante. Il trade union tra il primo non è mai tempo perso e questo qua ci sta. Il secondo è proprio un racconto legato molto intimo, spero magari te lo voglio fare dopo, si chiama Farwer, che è una storia d'amore, ma soprattutto è una storia di dipendenza affettiva, perché tratto proprio questo argomento, la dipendenza affettiva, anche sempre però con le sue sfumature crepuscolari, io ho questo atteggiamento un po' lieve. No, no, è un piacere leggerti, guarda, se per me sei stata una scoperta, lo dico pubblicamente, perché hai la capacità di rendere leggere cose che sono dentro di noi, però senza banalizzarle, hanno comunque il loro valore e il loro graffio. Io ti ringrazio molto per questo, avendo fatto non solo il Libraio, ma anche il Consulente per alcuni autori, ma Consulente nel senso, non è che sono il personaggio, faccio la parola Consulente. Io cerco sempre di far capire agli autori, perché avendo collaborato con gli editori a questo punto di vista, che molto spesso, tanti anni fa, gli editori si rifacevano proprio ai Librai per capire un po' che cosa pubblicare, che ne pensi quest'autore, ci davano le copie dei libri che ancora devono andare in stato. Io quando ho assistito, ho accompagnato e tuttora faccio anche questo tipo di attività, sempre immerso, anche i miei figli adesso hanno una casetta di dice, cerco sempre di far capire all'autore che alla fine poi bisogna anche capire il lettore, cercare di capire questo tuo sentimento, questa tua creatività, se può essere trasmissibile, deve essere, deve fare in modo da trasmetterla e quindi la devi rendere, secondo il mio modesto valere, la devi rendere semplice, fruibile, ovviamente non devi essere banale, allora è quello il giusto equilibrio, cercare di intercettare l'autore e anche il pubblico, però se tu sei poco conosciuto, tu puoi scrivere un libro di 400 pagine e poi la tua biografia alla fine sulla quarta ricopertina non finisce mai. Non lo leggerà mai nessuno. Brava, quindi è meglio iniziare con calma, con un raccontino oppure un racconto breve, per vedere se la tua sensibilità si sposa con quella degli altri. Questo è il consiglio che do a ti scrivere sostanzialmente. Agostino Lagosta, grazie per la tua disponibilità e sono molto curiosa di ascoltare la presentazione, ti stanno aspettando e grazie a te. Grazie, grazie. Grazie.